Oggi si è parlato di Artificial Intelligence. Qual è il punto di vista di Cisco? Artificial Intelligence in Cisco è una delle tecnologie che è particolarmente integrata in tutte le nostre piattaforme. La visione di Cisco è quella di fornire ai clienti e ai partner una piattaforma sicura e intelligente per la trasformazione digitale del business. Oggi dicevamo che i clienti non hanno l'intenzione di acquisire o di comprare l'Artificial Intelligence ma use case, cioè come questa tecnologia può risolvere. Abbiamo anche parlato all'interno delle piattaforme Cisco come ad esempio una delle nostre principali piattaforme, quelle di collaboration traggono beneficio dell'intelligenza artificiale. Immaginare un inizio di una videoconferenza con la nostra tecnologia telepresenza dove la persona entra nella sala riunione, chiama e interagisce con l'hardware e il software di Cisco, chiama la persona e questa persona viene chiamata in modo automatico, riconosciuta con tutti i dati della persona con la quale si interagisce è un esempio di tecnologia e dove l'Artificial Intelligence fa la differenza. In che modo Cisco vede il panorama italiano su questo tema? L'idea e la visione tecnologica deve poi associarsi a come si portano le piattaforme sul mercato e l'idea di base di tutte le nostre piattaforme sono pensate per essere semplici, aperte e programmabili. Questa dal punto di vista tecnologico è una straordinaria opportunità per aprire delle collaborazioni che prima non erano pensate. Ecco perché l'investimento in Italia con il programma di Cisco chiamato Digitaliani proprio per creare e aiutare il sistema delle start-up italiane nel integrare le piattaforme Cisco ma iniziare un dialogo sia tecnologico sia con i nostri partner e clienti nel come guidare la trasformazione digitale del paese e delle imprese. La presenza oggi a SMAO di Cisco è importante perché questo messaggio non deve essere solo per il territorio italiano ma anche aiutare le start-up italiane a avere una visibilità più globale e l'occasione di essere qua presenti a Londra è un'importante opportunità per le realtà italiane. Grazie a tutti!